Sempre alla scuderia Sangallo incontriamo Paolo Valentini, istruttore, a cui chiediamo una domanda legata al mondo del cavallo. Più che altro a quanto ci si impiega ad andare a cavallo, in quanto tempo ci vuole per imparare? Allora, andare a cavallo bisogna chiarire una cosa. Saper stare a cavallo è una cosa velocissima, invece per imparare ad andare a cavallo correttamente in senso sportivo ci vuole molto tempo e molta disciplina. Un esempio per chiarire tutto è che salire su un autoscontro o un go-car per divertirsi si fa in pochi minuti, mentre per imparare a guidare una macchina ci vuole molto più tempo. Per cui quando uno si approccia deve avere ben chiaro questa idea. Se vuole imparare deve avere disciplina, dedicare una buona qualità del tempo perché si ha a che fare con un animale stupendo che va conosciuto prima di incominciare a cavalcarlo per poterli chiedere delle performance sportive.